Per l'ultimo livello del capitolo, vediamo un po' come si comporta, qua è tutto viola, si presenta un cadavere proprio, figo però comunque qua Salve Ok, nei misi sono qua, quindi si va di qua, ok ok arrivo, mamma mia, inutile che ti agiti Salve Non so se sono contenti di vedermi o cosa, però non mi pare tanto, perché non mi spara, questo mi spara palese, anche lui Ma non sono tanto contenti di vedermi, da quanto vedo Questo livello sarà un disastro, secondo me perché è tanto largo, non so perché si sa dove cazzo andare E' proprio quello che mettono la minima, non la minima, la guida Ok, andiamo avanti di qua Mmm Che cosa fa quello lì? Eh, forse ho capito dove si fa, è un'arena gigante, ok Prima cosa da fare Andiamo un po' Reperire tutto qua Ok Andiamo sopra Andiamo sopra di qua Questo è importante C'è mica un'arma, qualcosa Ovviamente è sempre fresh start comunque, eh, io gioco sempre così Che è mancato? Che è viola? Quindi dovrò andare di sotto? Ok, quindi abbiamo già capito dove bisogna andare a parare Che è viola sarà qua? Questi brutti individui Mi sono incastrato, ok C'è una cosa qua dietro, niente No, questa qua è Madonna, che distanza enorme Qua c'è un'altra chiave, chiave rossa C'è una chiave viola o una chiave rossa? Allora, aspetta, aspetta un secondo Devo fare a mente locale Se vado di qua vado nel posto della chiave viola, giusto? Sì Ok, quindi andiamo di sotto Qua è l'unico posto in cui bisogna andare Salve Oh, c'è il bar Eh, lo sapevo Sti stronzi, malonna, ragazzi Ma c'è un pirodemone, guarda Oh, c'è un pirodemone, è morto tra tal cosa Aspetta un attimo, mi devo grattare il naso Ok Oh, eccolo il fucile Dammi il fucile a pompa Oh, ne sentivo la mancata Quanti barili, quanti? Troppa, c'è troppa barilanza qui Non mi significa Cosa mi significa? Eh beh Era palese che ci fosse un segreto lì Ma palese proprio Ma dove va il posto giusto? Dove devo andare? Guarda, quanti barili di merda C'è qualcosa qua? Ma magari potevano mettere un segretino qua dietro Ok, di qua devo andare, di qua allora Apri Madonna, non si vede una sega Salve Vedete come si va meglio con i fucili? Con i fucili con questi stronzi C'è un pirodemone lì Sì Guarda che si muove Vedete qual è il problema? Cioè Il pirodemone si muove quando lo spariamo Mannaggia te Salve No, no, no Tu devi morire Guarda che tuo compara Anche perché non lo vedo molto ragazzi Ora non si vede I nemici non si vedono però Io guardo la barra della vita Madonna, questo Chi è? No è Madonna, perché fanno i livelli così Senza una luce Non si vede un cazzo Si può aprire qua? È tutto chiuso Non mi sembra Se posso aprire Ingresso Adesso mi sono dimenticato qualcosa Non mi sembra Di qua Vedo gente lì in fondo Arrivo, arrivo Di qua Oh, da sotto magari Non ha fatto rumore quel barile lì Lo avete sentito? Allora di qua No, lì c'è il vuoto cosmico Ok, molto fico Però, raga Io vorrei tanto vedere qualcosa Inizialmente Questo posto Non mi convince Per un cazzo Ancora vuoto cosmico Ma non c'è Non c'è niente qua Sto guardando magari Chiave rossa C'è una chiave rossa Da aprire C'è una chiave blu Sì c'è una chiave rossa Aspetta Adesso Aspetta Aspetta un attimo Ma no Sì se non mi telefraghi Che magari Se tronzo Non sei altro E' qua E' la depurazione E' la depurazione Di là No, è di là Mi fa Ci ho capito Se ho capito però Vorrei tanto vedere Anche la gente Da depurare Ci potenziamento Non vedo niente Ah, salve Non è possibile Che devo tirare gli occhi Urca troia Ma sta qua No, 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 no Eh no, eh Eh, basta Eh, l'altro L'ho finito Ma no Che casino Che c'è lì Ma cosa è scoppiato Non so Ma ancora vivo sei No, no Però basta Cioè basta Spawnarmi Da dietro il culo Però O letteralmente sopra Cioè avete anche Siete noiosi Ma tanto anche E' la fai di qua Ma questo devo dire che E' uno dei livelli Che mi sta piacendo Di meno Finora Perché non si vede Una sega Fa proprio zero Guarda Se devo aspettare Che nemici Mi spaino Per capire dove sono Aspetta un secondo Eh Sta già per succedere Il maligno E ti tira questa Ma che stronzo La sopra Che cosa Ma basta Spawnarmi Da dietro il culo Basta Ma che Che merda Che merda Che merda Veramente Ragazzi Però Quello lì Ha rotto il cazzo Che basta Adesso lo vado a trovare Quello lì Hai rotto il coglioni Basta Bastia Fastidioso Proprio Guarda C'è una stavolta Che sticosi Rosa No 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 Arrivato lui No 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 vado Retro Tie No no Merda Ok sono Giusto che qua Non c'è il full damage Giusto giusto Se è un bot Non si muore Subito Cadendo Quindi posso fare Stare anche così Aspetta Non vedo La salve Ecco qua Giusto giusto Che qua non si muore Cadendo di sotto Nel vuoto cosmico Qua che sta Una ragione Crepa Siamo così Merda Ok Aspetta vedo qua Giusto qua Ah si Ok Qualcun altro Qualcun altro ne vuole un po' Prima che muoia Probabilmente Ah Ah Vado la pena Ok Poi siamo ancora in fase Di epurazione Non sono tutti morti Magari c'è qualcuno Che ho mancato Magari No sono tutti morti Ok andiamo via Aspetta Eh Credi Gioco Ok Di qua Sento ancora nemici Io però Però senti sti cazzi Plasma 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 Ok Ah siamo tornati in piazza Ok ok Perfetto Allora la chiave rossa Zitto La chiave rossa Era Non mi ricordo Era in fondo Ok Eccola qua Eh ma però Ok non ha molta vita L'aspirante campione Lì Beh vabbè Quello lassi ha tanta vita Invece Mannaggia lui Quanto cazzo spamma Tra epa Grattatina Tantissimo Trurito al nano Ok Il gioco cominciano a non scherzare più Cominciano sempre a mandare Di più sempre sti soldati qua I nemici grossi Lì con l'armatura gialla Ok Orca Trororia Vabbè dai Sti cazzo Comunque posso salire di qua Cosa mi ha preso Il barile Ah sei stato tu Quanto l'hanno fa Ma è che il fusile del plasma Ma Madonna Il delivery design di sto livello È una merda Mamma mia Terribile Vaffanculo Ma che cazzo è Ma cosa mi significa Non c'è spazio Proprio per Grazie E' bel salvataggio Di merda Vaffanculo Vaffanculo Borca puttana Non le ho mica viste prima Io queste Ok Ok Vuol dire Alla Q Stavo premendo G Mannaggia me Perché c'ho ancora In mente le granate Nella G Perché questi non spawnano Quelli blu Scusami Di solito Di solito Gli urliloso Non dovrebbero Spawnare Quelli blu Almeno il gioco Così mi ha insegnato Mmm No di qua Di qua dove sono arrivato Vero mi sembra Sì di qua sì Mamma mia Che design Le design Delle mie sfere Proprio Ok Ok Però mi serve una chiave Viola Che qua non esiste Vabbè Un fucile Cominciamo con le 2.3 Cosa mi fa danno E' lui Stronzo Che mi fa tantissimo danno Non ha senso Mi fa 8.000 Mi va Che cazzo è Poi cos'è Cosa è Questa roba Psicadelica Che sto guardando Ah che roba E' molto figo Un effetto Però mi fa Quasi Cioè Madonna No dimmi che devo Fightare così No perché mi viene male Mi viene il vomito Mi viene Eh Perché non sale Madonna Molto specifico A volte Adesso capisco Perché si può arrivare Fino a 200 Di vita Guarda Doom 3 Momento Puntana La vostra madre Eh no eh Non si può No non si può neppure Dio bono Sti stronzi rosa Basta Eh merda Eh merda Tu tira granate Nel dubbio Dopo vediamo Mi arriva da dietro Mi arriva da dietro Non usare Non usare Sti cazzo di granate Se no Se no E poi sembra Sembra Sei stranissimo Se no eh Permesso Permesso Ti tolgheranno tutti Dei coglioni Anzi facciamo così Che fastidio Che fastidio Mamma mia Doom mi ha abituato Troppo bene Quando faccio le groghe Sono immortale Ok C'è ancora gente qua Quanta armatura Come sembra C'è ancora gente qua Nel piano Il piano principale Guarda quante munizioni Per la minigun Che cazzo Il mio problema Di fare Il fresh start Ogni volta Che pa Vedete che c'è sempre qualcuno Guardalo Anche nel fondo Ma Ok ma qua c'è Tanta gente Ma che cazzo è Eh eh Piccolo scattino Chi sta dai Ogni tanto si Un'altra granata voi Un'altra granata voi Eh vabbè Insomma Guarda qua quante budella Madonna tantissima C'è C'è Si può o no Ok quanto pare si può Alleluia Andiamo su Questo preciso istante Cale blu Non dobbiamo tornare tutto indietro Adesso Adesso Mannaglia voi No c'è ancora gente C'è ancora gente Non siamo contenti Eh No Pugue Priorità massima Ci avataggio Oh mamma mia Uh Un attimo Pausa Perché veramente Guarda Comincia ad essere Difficile 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 Eh Ma scusa ma Ma Ah no siamo tornati di nuovo in piazza Ok Adesso dobbiamo andare di sopra Prendere la chiave Bliola Che non è qua Ma è Forca merda Dai Ovviamente dall'altra parte Ovviamente Dall'altra parte Dove che ho guardato io Sono passato su Davanti Oh beh Andiamo a risparmio Patata Risparmio Ok Mmm Altra arena enorme Sì sì Sicuro Guarda Eh Barile 1 No 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 Puttana Allora Allora Prima cosa da fare Vai qua Vai qua No Me ne frega un cazzo Vai qua Ok Ammazza tutti sti cosi Fastidiosi Proprio Guarda quanti ne sono Guarda quanti ne sono Fori Tira tutte le granate al boss Ma tutte quante Sono finite Ok Mannaggia loro Guarda C'è qualcosa C'è qualcosa che mi fa il boss Che prendo danno Che non so bene cosa Devo capire bene cos'è Ok Forca troia Sti datore di Zeynek Vaffanculo Va Ok Adesso Prendi l'armatura Per amor di dio Possiamo Parlare io e il boss C'è Possibile Mannaggia lui Non mi ha fatto Nemmeno uno di danni No niente Bisogna sempre Che sia Disturbatori Sempre Come si riusciamo Uguale Il boss Non può essere mai da solo Mannaggia lui No è Prendi un po' di granate Che non fanno mai male Tieni le granate Premi Q Non premere G Impazzito Che non sei altro Ok Il boss è ancora lì Questa è la metà vita Dove è finito? Sto là in fondo Quale è granate? No No Quale è granate? Ok Questi qua No Vaffanculo voi Cosa c'è qua sotto? Devo capire Ah vedi Ci sono munizioni qua Ok C'è un po' di Un po' di tregua Ok Prendi le granate Ma che qui Venite a rompermi il cazzo? Ok Sapete cosa mi ricorda molto La zona tipo Mezzo boss finale Da del cazzo Di Veni Colossus Che c'aveva la zona sotto Di pausa Tira tutte le granate Il boss Eh vabbè Sei pronto allora Vatelo dire Ma che pezzo De merda Dov'è? Eccolo là in fondo Chi è? C'è tantissima vita Quello lì Ma che cazzo è che mi fa danno? Ma cos'è? Eh vabbè Piromante da dietro Piromante da davanti Mottana troia Non so neanche che cazzo Mi fa danno Poi c'è il pirodemone No piromante Mannaggia lui No no Questa arma fa schifo Eh Permesso Permesso Il problema è lui Non gli altri Togli dalle palle Via 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 ho detto Ok Mi faccio un cazzo Di danno Cos'è? Cos'è? Cos'è sto? Cos'è sto danno? Cos'è? Non si capisce mai Quanti sciabini Quanti sciabini Non lì c'è la vita Prendila C'è da morì Dov'è? Dov'è? Eccolo la bastardo Vieni qua T'è in faccia Perchè Io lo trovo per salire Lì ci sono Lì ci sono Vabbè Lì Di qua Eccolo lì Dammi questa Vai di qua Vai su di qui Mi serve dell'armatura Un minimo almeno Ok Anche 8 Va bene Dov'è? Sei ora lì? Pezzo di merda Ma che stronzo Vieni qui Non scappare da me Madonna ragazzi Ah Il culo vai Ancuno Posso Aspetta posso Eeeh cosa gira Il cadavere Ah La adesso sono contento Crepa Bastardo Mannaggia voi Anche stimoli Guarda lì Così Buttella Così devi stare Mannaggia lui Un attacco Non schivabile Da E' impossibile schivarlo Quell'attacco lì Dai che cazzo Ti fa Fuoco sotto il culo Ok Mannaggia voi Di Buongiorno Grazie a tutti.